Con lo scatto iniziale da parte di Orinoco Stella che cerca di contenere Gioiello Jet che insiste, attacca e si avvantaggia, ma non passa ancora in testa, più indietro Nice to meet you e Nemo Griff, Nice to meet you in terza posizione quando Gioiello Jet si accoda alle spalle di Orinoco Stella che completa in 14.6.200 e guida sulla retta delle scuverie. Rimasto invece all'esterno Nemo Griff che punta dritto sul leader con l'impressione che l'allievo di Montagna però voglia correre al comando e dopo 400 metri in 29.8 si adegua Nemo Griff, rimane a lato del battistrada, in terza posizione c'è Nice to meet you mentre a largo c'è stata la risalita anche di Gadoni. Gadoni segue direttamente le mosse di Nemo Griff, intanto 45.3 per i 600, Orinoco Stella continua a guidare, buona andatura, allargo la progressione in terza corsia di Nedved Alex, Nedved Alex viene via cattivo a un giro dalla conclusione, in poche battute raggiunge la coppia di testa e se ne sbarazza per passare in vantaggio a 750 dalla conclusione, in vantaggio quindi Nedved Alex che arriva così al chilometro, in 1.15.7 Orinoco Stella in scia, poi Gioiello Jet. Intanto c'è il calo di Nemo Griff, la progressione di Gadoni seguito da Nice to meet you, cavalli a 400 dal palo con Nedved Alex in fuga. Gadoni si sistema in seconda posizione, poi anche Nice to meet you progredisce bene all'esterno, Gadoni sbotta di galoppo, mentre Nice to meet you cerca la ganso con Nedved Alex, completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, in vantaggio Nedved Alex su Nice to meet you che ha un paio di lunghezze, Nedved Alex in vantaggio, nel finale Nedved Alex controlla la situazione, vince su Nice to meet you, mentre al terzo più indietro finisce ancora Orinoco Stella, avanti a Luke. 1.14.9, si è viaggiato forte, il ritorno successo per Nedved Alex, Massimo Barbini in seriolo, quota di 3.95, al totalizzatore Nice to meet you corre bene ma è soltanto secondo, al terzo finisce quello che era l'iniziale battistrada, Orinoco Stella, è tutto per questo convegno di corse, l'appuntamento per mercoledì 1 maggio.